Il programma della benedizione per una breve edizione straordinaria del PG-13. Perchè qualche coglione si sono venduti i colori? Perchè si sono venduti i colori? Per quale motivo si sono venduti i colori? Perchè c'è qualche bocchivegola che è scena da guagnarsi sopra su a svegliere i colori? Io bevo acqua fissante da 10 anni. Fa bene la salute? Fa bene i colori! Eh coglioni! Erano tutti straesaltati, erano notati che era strappistato, c'è saccagnato, c'è era messo male. Aveva un occhio che sembrava non manca avesse combattuto con Mike Tyler, vabbè, ai tempi d'oro, cioè nel senso quando proprio tirava in un botto. E' la scimmia! Uuuuuh! Stelico Pazzo è tutto, a te la linea! Sono Stelicini! Stelicini!